Diffondere la cultura e la pratica del digitale nelle micro, piccole e medie imprese. E questo è l'obiettivo del PID, il punto Impresa Digitale, presentato dalla Camera di Commercio di Chieti. I servizi del PID serviranno ad avvicinare le imprese ai temi di impresa 4.0, in particolare quelle della digitalizzazione. Il PID punta a diffondere tramite corsi di informazione l'impresa 4.0, mappare le maturità delle imprese, offrire piani di assistenza, orientare le imprese verso Competence Center e Digital Innovation Hub, sostenere le imprese nei processi di trasformazione digitali con i voucher digitali. E tra le attività da segnalare, proprio quello dei voucher digitali, contributi di 2.500 euro per promuovere l'utilizzo di servizi e soluzioni su competenze e tecnologie digitali. Le domande potranno essere presentate dall'8 gennaio fino al 26 dello stesso mese, ovviamente in modalità telematica. La Camera di Commercio portiamo avanti questo progetto di informazione sul digitale, accompagnando il progetto del governo sul 4.0. Il 4.0 è la trasformazione epocale che sta avvenendo nel sistema delle attività in generale, non solo delle industrie, ma di tutto quanto, che coinvolgerà tutto il sistema. È un cambio di paradigma, nel senso che da questo momento in poi ci si dovrà operare in maniera sempre diversa, sempre legata al digitale. Tutto quanto si va velocizzando. Se pensate, per dare un'idea, che oramai circa il 60% delle persone prenota su internet il turismo, l'80% si informa su internet per il turismo. Quindi già solo questo dà un'idea della dimensione del fenomeno. Questo fenomeno attraversa anche le imprese, le industrie, perché sia attiene al sistema produttivo, sia quindi a una logistica interna dell'azienda, sia al rapporto dell'azienda con i suoi fornitori, sia al rapporto dell'azienda con il suo mercato. Quindi è un cambiamento radicale sul quale è indispensabile fare conoscenza, anche perché dall'ultima indagine del Cresa è uscito fuori un dato drammatico, direi, perché il 64% delle industrie abruzzesi non è interessato al 4.0. Oggettivamente questo significa che non lo conosce, perché significa che non si rende conto che oggi non adeguarsi, non conoscere, non trasformare, significa che in un periodo molto breve le imprese che non lo faranno rischieranno la chiusura. Ed ecco, come si fa a portare realmente queste imprese a conoscere il 4.0? Noi appunto oggi abbiamo questo primo incontro del punto di informazione digitale, un punto che all'interno della Camera di Commercio di Chieti è che ti dà informazioni su questo. Proseguiremo poi l'attività con una serie di seminari più articolati, più approfonditi, uno di tipo generale, sia sui vantaggi economici, quindi sulla legge, sia su che cosa significa in senso lato, poi delle verticalizzazioni nel settore del turismo, nel settore alimentare, nel settore dell'automotive e nel settore dell'edilizia, cioè i segmenti che attengono di più al territorio della provincia di Chieti. Oggi inauguriamo questo servizio che si chiama PID, punto impresa digitale, che è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico da giugno e che ha, per poter essere attivato, abbiamo formato tutto il personale camerale, poi abbiamo cominciato a derogare tutta una serie di servizi, ma anche sostenendoli finanziariamente. Infatti oggi, proprio nell'incontro che ci sarà a breve, daremo tutte le informazioni per quanto riguarda il bando voucher per le imprese per la digitalizzazione, in maniera tale che tutte le micro e piccole e medie imprese possano avere un contributo fino a 2.500 euro per consulenza e formazione sui temi del digitale. Quindi il nostro compito principale, questo servizio, è il compito di diffondere le competenze e le conoscenze di base sui temi del digitale. Come farete a portare tutte le aziende, piccole, micro e medie, a crescere in digitale? Noi, attraverso incontri come questo, quindi attraverso incontri di informazione, ma anche attraverso eventi formativi, noi cercheremo di dare ampia diffusione di queste conoscenze del digitale, ma avremo anche il compito di orientare le micro e piccole e medie imprese verso i Digital Innovation Hub. Vogliamo parlare di questi Digital Innovation Hub? Allora, i Digital Innovation Hub hanno naturalmente il compito di erogare corsi di formazione di elevata competenza e sono in capo alle associazioni datoriali. Qui a Chieti abbiamo il Digital Innovation Hub di Confartigianato, ma so che stanno costituendo anche quello di Confcommercio ed è attivo all'Aquila, quello di Confindustria. Attraverso un'attività assolutamente di divulgazione, quello che faremo oggi, che assisteremo oggi come presentazione, il PID è il primo passo per avvicinare il Digital Hub alle imprese. Il discorso è abbastanza complesso, noi dobbiamo portare tutto il sistema imprese, il sistema paese verso impresa 4.0. Adesso, almeno per quello che ci risulta in Italia, stiamo superando questo concetto perché stiamo allargando, non solo alle industrie, ma anche a tutte le altre attività, il concetto di 4.0. Per fare questo bisogna spingere molto, non solo sulla comunicazione, ma anche e soprattutto sulla formazione. Dobbiamo partire dal basso per far crescere non solo i possibili interlocutori, ma dobbiamo far crescere tutto il sistema. L'Abruzzo è una regione molto industrializzata, più di quello che si pensa. Ovviamente abbiamo un territorio vastissimo, coperto da parchi e riserve, però abbiamo grandi attività industriali, grandi player industriali e abbiamo delle ottime possibilità di coniugare in maniera sostenibile entrambe le cose. Per crescere in digitale, quindi nel digitale 4.0, c'è bisogno comunque di giovani? Beh, assolutamente sì, anche perché i giovani sono i cosiddetti nativi digitali. Abbiamo però anche la necessità e la possibilità di riconvertire, di migliorare, di ottimizzare anche il rapporto che hanno quelli di mezza età con il digitale. Il Confartigenato ha creato un Digital Innovation Hub qui in Abruzzo, ma in realtà è partita una rete nazionale con 30 Digital Innovation Hub inserite chiaramente nel piano di Industria 4.0 del Ministro Calenda. Su questo ci prefiggiamo di accompagnare le imprese in questa nuova avventura, un'avventura a mio avviso inevitabile perché è necessario un percorso di riconversione, di riqualificazione di tutte le imprese artigianali e non per far sì che il nuovo mondo, quello legato al digitale, alla prototipazione, al 3D, diventino argomenti di facile masticazione quotidiana per tanti artigiani e possano così anche cogliere queste opportunità come strumento per superare la crescita. Tanti artigiani in Abruzzo, quale sarà l'obiettivo e se sarà facile o difficile comunque avviarli a questo mondo 4.0? Chiaramente il mercato abruzzese non è un mercato come il Nord Italia, piuttosto come il Veneto o la Lombardia, però noi ci vogliamo scommettere, ci crediamo fortemente di essere di supporto, di formazione, di orientamento a tanti imprenditori che comunque vogliono scommettere sul futuro e vogliono puntare sulle nuove tecnologie, le tecnologie abilitanti che possono oggi più che mai fare la differenza. Possiamo entrare un po' nel merito di questi corsi? Sì, noi abbiamo comunque una grande scuola di formazione, Academy for Me, il Succhieti, il Digital Innovation Hub inserito all'interno della scuola, sono già stati accreditati dalla Regione Abruzzo due percorsi formativi, uno per sviluppatore app e l'altro per tecnico meccatronico, poi c'è un altro catalogo di corsi liberi a pagamento sulla prototipazione, sul 3D che sono facilmente consultabili sul nostro sito, dove tutti gli imprenditori, ma anche i ragazzi, perché queste tematiche sono attuali anche per i ragazzi magari appena diplomati, appena laureati che hanno una mente fresca e agile che è pronta a recepire queste nuove opportunità. Sarà un passo il 4.0 per non uscire fuori dall'importanza dell'Italia, dell'industria italiana e anche europea? È una via, a mio avviso, inevitabile, che noi l'abbiamo anche quantificato come confartigianato in termini di pil, di incremento sul pil, va a incidere in modo consistente, perché, ripeto, è un nuovo modo di pensare, un nuovo approccio che consente di allargare anche gli orizzonti, di ripensare il modo di fare artigianato in un modo innovativo che chiaramente non va a snaturare le attività, quella storica dell'artigiano, ma c'è un mondo tutto legato alla customizzazione, al fare il prodotto su misura in base alle necessità effettive del consumatore finale. A presto!